Non mandare la tua vita in fumo. Spegni la sigaretta e accendi la tua forza di volontà. Smettere di fumare si può. Il fumo è la più importante causa di morte evitabile. Smettere di fumare a qualsiasi età comporta molti effetti positivi per te e le persone a te vicine. Parlane con il tuo medico di famiglia. Con la sua richiesta puoi prenotare una visita gratuita presso i centri antifumo delle aziende sanitarie di Parma.